Mio Dio, sto camminando da ore, non so proprio dove sto andando, non lo so proprio, io ci rinuncio, ho sete, ho fame, sono stanca, dove sto andando qua, con tutti questi rumori mi sta scoppiando la testa, io voglio darmene da qua, però devo aiutare la principessa, c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno, mio Dio, c'è qualcuno, Dio, ma che, ciao, salve, no no, va bene, non devo avere paura, scusa, io sono qua, mi puoi aiutare, devo andare al castello della principessa, il castello, mi ci puoi portare, per favore, intraprendente, ti chiami, allora se sei così intraprendente, perché non mi accompagna il castello, io ho paura, ho fame, ho sete, come, beh, puoi, puoi realizzare tutto questo, sì, mi puoi aiutare, ma in che senso, sei in aiuto da me, e perché io dovrei crederti, non ti conosco, intraprendente, hai anche un bel nome un po' strano, perché non mi ci porti al castello, sai dove arrivarci, sì, e allora accompagnami, però io sono stanca, ho fame, ho sete, non so dove vagare, con questi rumori della foresta, ho paura, non so dove andare a dormire, un posto, un posto dove dormire, non so, non so cosa fare, io, ma ne sei sicuro, ma perché, io dovrei esprimere un desiderio, ma come pensi che si possa realizzare, ah sì, tu sai che io sono l'eletta, tu sai troppe cose su di me, e non mi fido di te, io dovrei provare ad esprimere un desiderio, perché mi vuoi convincere così tanto, sembra che ci sia qualcosa dietro, no, la mappa non te la do, se no come faccio ad arrivare al castello, mi devi insegnare tu, ad arrivare al castello, perché ci devo arrivare, ho bisogno di questa cosa, mi devi aiutare, ma tu sai che sono l'eletta, come fai a sapere tutte queste cose di me, da chi te l'ha dette, da dove vieni, chi sei, io ho fame, non sai dove c'è un ristoro, dove si può mangiare e bere qualcosa di caldo, devo esprimere il desiderio, ma sei sicuro, io non mi fido di te, e va bene, e va bene, esprimerò un desiderio, io voglio avere dei dolci, guarda cosa c'è là, sono dolci, sono pasticcini, che, oddio, ma come facevi a sapere di tutto questo, io mangio, io mangio, ho fame, io ho fame, ho fame, io devo mangiare, scusami, è tanto che viaggio, e anche, se si è contento, sia legato, è veramente anche un'ag Special Venezia, d'asigi, in una cosa, io voglio, un'agrago, un'agrago, più amore, e anche loro sei, sulle, sono un'agrago, ma saria, Sardinario! Buonissimo! Oddio! Ma sei un mago! Ma come hai fatto? Oddio! Ho una fame! Un altro desiderio! Ok! Io desidero di fare un bagno caldo! Voglio un laghetto termale! Ah! Eccolo là! Ah! Questi sono i suoi ricordi presto la sua mente sarà vuota e la riempirò con i miei ideali che presto sarai mia anche tu presto sarai mia schiava tesoro e esprimi i tuoi desideri e la tua mente sarà vuota vuota come nulla come nulla voglio dell'acqua voglio dell'acqua ho mangiato ho mangiato dai cartaggi è una cosa che ho inventato io non dobbiamo lasciar permettere che questo è l'atto rovini i nostri piani solo quando avrà esaurito tutti i suoi ricordi non riparare più nulla non riparare più nulla vai avanti tesoro mio vai avanti ad esprimere i tuoi desideri ho ancora dolci oh mio dio è il mio preferito dai coraggio dobbiamo avviarci cioccolato mio dio siamo quasi arrivati forza andiamo oh mio dio ecco il castello della principessa abbiamo avanti abbiamo avanti mio dio eccoci 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 eccoci